3 milioni di euro dal governo Muzumeci per i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato predisposto dalla Regione il decreto interassessoriale Economia e Autonomie Locali firmato da Gaetano Armao e Marco Zambuto che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2020 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne in attuazione di una norma regionale sono 167 comuni di nuove province dell'isola il cui elenco preparato dai dipartimenti delle autonomie locali e dell'acqua e dei rifiuti è stato validato dall'ARPA Sicilia. Cresce di anno in anno, evidenzia Muzumeci, il numero dei comuni ricicloni in Sicilia frutto delle azioni messe in campo fin dall'inizio della legislatura, dal governo della Regione e grazie alla collaborazione dei sindacati e cittadini. Nel 2019 erano 134, nel 2018-79 e l'anno precedente appena 31. Un aumento che conferma una sempre maggiore sensibilità ambientale da parte dei siciliani oltre all'impegno quotidiano dell'amministrazione locale. E' questo l'elenco dei comuni beneficiari del finanziamento a cui è stata assegnata una somma fissa e una variabile in base alla popolazione. Provincia di Agrigento 25 sono Agrigento, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Castel Termini, Cattolica, Eraclea, Grotte, Iopolo, Giancaxio, Luca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Racalmuto, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, San D'Angelo, Muxaro, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca e Villa Franca Sicula. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta sono 13. Butera, Campofranco, Delia, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Resuttano, Serra di Falco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba.